La prima rubrica riguardante le strutture geologiche presenti nel territorio e precisamente i calanchi abbiamo ritenuto opportuno, dopo l'evento sismico devastante che ha interessato l'Abruzzo, di parlare dei terremoti. Questa seconda rubrica sarà divisa in due parti. La prima parte interesserà essenzialmente la distribuzione dei terremoti sulla Terra e quindi ciò che li causa e come quindi si formano questi terremoti. Nella seconda parte invece parleremo, diciamo, nello specifico della sismicità che interessa l'Italia meridionale. Il 6 aprile 2009 un sisma devastante di magnitudo 5.8 della scala Richter ha colpito la provincia di L'Aquila. Da quel giorno abbiamo sentito spesso parlare di terremoti. Per tentare di capirci qualcosa di più è necessario conoscere un argomento affascinante ma difficile, la teoria della tettonica zolle. I terremoti non si distribuiscono sulla Terra casualmente, ma si addensano lungo alcune linee più o meno ampie e sono assenti nelle altre zone. Lungo le stesse linee si trovano anche catene montuose, vulcani e dorsali oceaniche, cioè imponenti catene montuose sotterranee, alte fino a 3000 metri, che si ergono dal fondo degli oceani. Per spiegare tutto questo è stato definito negli anni 60 un modello detto modello della tettonica placche o della tettonica zolle, oggi accettato dalla maggior parte degli studiosi. Il termine tettonica si riferisce ai processi che portano alla formazione ed evoluzione delle catene montuose, dei vulcani eccetera. Tettonica placche o zolle vuol dire che questi processi sono spiegati con i movimenti delle parti rigide, placche o zolle, in cui i geologi hanno suddiviso la parte più superficiale della Terra, detta litosfera, e cui i confini sono individuabili con le linee in cui si addensano i terremoti. La Terra ha una struttura interna simile ad un uovo, un guscio esterno sottile e rigido, la crosta, uno strato intermedio plastico, il mantello, ed un nucleo solido. La parte più superficiale è la litosfera, comprendente il primo strato, crosta e parte del secondo mantello, e suddivisa in una dozzina di placche principali in movimento relativo fra loro, il cui spessore varia da 15 km sotto gli oceani a più di 200 km sotto le aree continentali più antiche, come il Nord America. Lo strato al di sotto della litosfera, fino alla profondità di circa 700 km, viscoso e ad alta temperatura, forse parzialmente fuso, è chiamato astenosfera. Si ritiene che nella stenosfera si abbiano dei movimenti convettivi, cioè dall'alto verso il basso e viceversa, simili a quelli che avvengono in un liquido riscaldato. Questi movimenti nella stenosfera calda e viscosa spostano orizzontalmente le soprastanti zolle di litosfera fredda e rigida, in direzioni diverse, in modo tale che i loro margini si avvicinano scontrandosi, e quindi avremo i margini convergenti, si allontanano e quindi avremo margini divergenti, o scorrono uno contro l'altro e in questo caso avremo i margini trascorrenti. Nelle zone in cui si ha un allontanamento, uno scorrimento parallelo tra due placche, i sismi sono piuttosto superficiali, mentre nelle zone in compressione, dove una placca scorre al di sotto dell'altra, si manifestano terremoti anche a profondità considerevoli, fino a 700 chilometri. La maggior parte dei sismi e delle eruzioni vulcaniche avvengono lungo i confini delle placche. Le zone di collisione tra le placche sono caratterizzate da sismicità più elevata. Inoltre, quando due margini si allontanano, quindi si ha una divergenza, lo spazio è lasciato libero e riempito da materiale astenosferico fuso, che consolidando si produce dorsale oceaniche o un nuovo oceano. Quando due margini invece si avvicinano, quindi si ha una convergenza, una zolla scivola sotto l'altra, sprofondando nell'astenosfera, dove fonde e si producono a causa delle collisioni, catene montuose, fossi oceaniche ed archi insulari. La tettonica zolle è però un modello, non un dogma. Applichiamo questo modello per spiegare vulcani attivi e terremoti presenti nel basso Tirreno, Sicilia e Calabria. L'articolata situazione geologica dell'Italia meridionale è spiegata dal modello della tettonica zolle, come legata alla convergenza di due placche, quella europea e quella africana, iniziata circa 80 milioni di anni fa. Di fondamentale importanza nelle ricostruzioni geologiche sono i tempi lunghissimi con i quali avvengono questi fenomeni. Quando è iniziato il processo di convergenza, quella africana si è mossa verso nord-est, spingendo quella europea. Questa ha opposto resistenza e ne è nata una collisione. Siamo quindi nel caso di placche con margini convergenti. Entrambe sono costituite da litosfera continentale, ma fra di loro è interposta litosfera oceanica. Le posizioni attuali di Africa ed Europa, risultato della collisione, non sono quelle iniziali. Per descrivere il processo di collisione dobbiamo perciò riportarci alla situazione iniziale, quando Africa ed Europa erano più lontane e ruotate rispetto all'attuale orientamento. Per chi dalle pianeggianti terre del tavoliere o della capitanata si accinge a raggiungere la Basilicata, punto di riferimento inequivocabile, è la conica sagoma del Monte Vulture, primo baluardo naturale di una regione montuosa per i suoi due terzi. Millenni di storia, arte e tradizioni si sono succeduti all'ombra della sua mole vulcanica, resa ancora più imponente dalla posizione isolata dell'intero complesso della catena penninica. Le fertili e rigogliose pendici, ricoperte di una stupenda foresta secolare, ci fanno forse dimenticare che esso, per varie analogie strutturali e geodinamiche, è associabile ai vulcani come il Vesuvio e l'Etna. Il Vulture è un vulcano estinto nell'età pleistocenica, alto 1327 metri sul livello del mare, si eleva sul fondo di vallate quaternarie, sito ai margini orientali della regione, per cui costituisce la frontiera di tre regioni, la Lucania, la Puglia e l'Irpinia, delimitate da un gruppo montuoso, il cui apparato si estende per una superficie di 27 chilometri quadri, ed è molto simile al Vesuvio e al massiccio vulcanico di Rocca Monfina. I piccoli laghi di Monticchio, detti gemelli del Vulture, occupano il doppio cratere centrale del cono eruttivo del Vulture, uno dei più antichi vulcani dell'Appennino meridionale. Il lago grande, quello occidentale di forma ellittica, occupa una cavità a forma di imbuto, con bassi fondi piuttosto piatti, copre un'area di 40 ettari e si trova a quota 656 metri sul livello del mare. Il lago piccolo, a oriente dell'Istmo, anch'esso di forma ellittica, ha sponde molto piccole, è profondo circa 38 metri, copre un'area di 10 ettari e si trova a 658 metri sul livello del mare. I due laghi sono separati da un sottile lembo di terra, largo circa 216 metri, ma sono comunicanti attraverso un ruscello sotterraneo che passa dal lago piccolo a quello grande, avendo il lago piccolo il pelo dell'acqua al di sopra del corrispondente livello del lago più grande. Successivamente, da quest'ultimo, le acque, attraverso un emissario che in estate è sempre in secca, percorrono un profondo vallone e dopo un corso di 6 chilometri, attraverso il varco della Creta, si riversano nel fiume Ofanto. Nel fondo dei due laghi sgorgano numerose polle o sorgenti subacquee caratterizzate dalla presenza di anidride carbonica. Pur comunicando tra loro, differiscono l'uno dall'altro per la colorazione dell'acqua. Infatti, il lago grande ha una colorazione verde olivastro, mentre il lago piccolo ha un'acqua di colore verde intenso. Tra l'altro, entrambi hanno una temperatura più elevata dei laghi d'Italia. Autore dei sottotitoli e revisione a cura di QTSS Grazie. Grazie.